In Trecento ieri sera al passo della Presolana per dire no all'arrivo di altri migranti in paese, tensione con il gestore dell'albergo che potrebbe ospitare i richiedenti asilo. Lavori contro i dissesti e il rischio idrogeologico averto va in via 4 novembre intervento per ripristinare il tratto di muro crollato a maggio, in via 5 martiri si demolisce il masso che incombe sulle case. Si chiude il ritiro dell'Atalanta a Rovetta, i nerazzurri proseguiranno la preparazione in Svizzera dopo il trofeo Bortolotti. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli, protesta ieri sera a Castione al passo della Presolana per dire no all'arrivo di altri migranti in paese. Ci sono stati anche momenti di tensione. Sentiamo Vladimir Lazzarini. Circa 300 persone si sono radunate ieri sera nella zona del passo della Presolana per protestare contro l'annunciato arrivo di altri migranti presso l'hotel Spampatti. Non sono mancati i momenti di tensione quando il corteo ha raggiunto la struttura e il gestore ha reagito alle provocazioni della gente lanciando sulla folla tazzine da caffè e bicchieri di vetro. Non ci sono stati comunque feriti e la presenza dei carabinieri ha permesso di tenere sotto controllo la situazione. Poco dopo le 21 i manifestanti hanno occupato la strada con esdraio e panchine ostacolando il passaggio delle vetture che è stato comunque garantito. Il presidio è proseguito fino a tarda sera. Uno dei promotori, Giovanni Migliorati, Giovanni di Bratto, ha dichiarato a Lico di Bergamo che il ritrovo è stato organizzato per far sentire la voce di semplici cittadini slegati da partiti politici. La prima fonte di reddito per il comune di Castione è il turismo e dopo i primi 56 migranti ospitati a Villa Iesus adesso vogliamo dire basta. Il passo è una zona tranquilla frequentata in estate da molti turisti, in prevalenza famiglie, bambini e donne. Giovanni Migliorati ha inoltre annunciato per oggi un'ulteriore mobilitazione in piazza a Castione. Intanto il sindaco Angelo Migliorati, che non era presente al presidio di ieri sera, ha inviato un'altra lettera alla prefettura di Bergamo in cui ribadisce la contrarietà della sua amministrazione all'arrivo di altri migranti in paese. Ha ribadito che nel comune che rappresenta sono ospitati 56 migranti su una popolazione di 3.416 persone, una percentuale 5 volte maggiore di quanto previsto dal protocollo d'intesa governo ANCI. Aveva chiesto e si sarebbe aspettato dalla prefettura l'esclusione del comune di Castione dai bandi di servizio accoglienza migranti, come peraltro avvenuto lo scorso anno. Era l'unico modo per rispettare un'indicazione dello stesso Ministero degli Interni e per non incrementare e ulteriormente il numero di migranti gravante su questo comune. Così però non è stato. Il sindaco sottolinea inoltre il grande disagio e la grande rabbia della popolazione, che potrebbe essere difficilmente controllabile. E a Castione i consiglieri di minoranza del gruppo Vivi Presolana, l'ex sindaco Mauro Pezzoli e Graziella Messa hanno presentato ieri mattina in comune le loro dimissioni. Sembra che il gruppo stia valutando la rinuncia alla surroga. In tal caso l'unico gruppo di minoranza che resterebbe in consiglio comunale sarebbe Castione Unita. Parliamo ancora del progetto per il prolungamento del tram fino a Vertova. Ieri in un incontro si è fatto il punto della situazione relativamente allo studio dedicato alle ricadute dell'opera. Ieri ad Albino un altro incontro dedicato al progetto di prolungamento della Teb fino a Vertova. Chi c'era e quali erano gli obiettivi di questo nuovo appuntamento? Questo incontro è stato organizzato dall'associazione temporanea di professionisti denominata Trampio che si è giudicata alla gara per lo studio delle cosiddette esternalità che il prolungamento del tram fino a Vertova dovrebbe produrre. Quindi uno studio multidisciplinare costituito da diversi soggetti, quindi da sociologi, da storici, architetti, consulenti finanziari, consulenti della pubblica amministrazione. Quindi questo studio insieme chiaramente con Teb ha organizzato questo incontro ad Albino per fare un po' il punto. Quindi un incontro di lavoro, presenti c'erano gli amministratori locali interessati dal passaggio, altri amministratori locali della Val Seriana e in più c'erano le associazioni di categorie portatori di interessi del territorio, i cosiddetti stockholder. Tra questi va citato Confindustria, Lega Ambiente, la Fai Autotrasporti, la federazione, i rappresentanti della federazione degli agenti immobiliari, così come Promoserio. Questi insieme ad altre associazioni sono stati convocati proprio per fare un po' il punto a che punto era questo studio, visto che proprio in questi giorni hanno iniziato ad incontrare sindaci e altri di questi attori del territorio per raccogliere dei dati. L'obiettivo dello studio, l'abbiamo detto, è quello di valutare quale saranno gli effetti, alcuni degli effetti sono immediati, evidenti pressoché a tutti, la riduzione del traffico viricolare, la riduzione delle emissioni d'atmosfera, quindi dei miglioramenti dal punto di vista dell'inquinamento, altri sono meno immediati, meno visibili, ma altrettanto importanti. È ovvio che lo studio si pone proprio l'obiettivo di misurare questi ulteriori elementi e questi ulteriori effetti. In particolare, tra questi già ne sono emersi alcuni, alcuni già in senso positivo, tra questi è il recupero delle aree dismesse, poiché l'esperienza della prima tratta, la T1 fino albino, ha già messo in evidenza già degli effetti e questo chiaramente è un aiuto anche per fare delle valutazioni sulla seconda. Quindi il recupero delle aree dismesse, dei fenomeni di rigenerazione urbana, degli impatti ovviamente sul turismo, degli impatti sulla mobilità anche interna, quindi non soltanto, come tutti pensiamo, un vantaggio solo per chi va a Bergo, degli spostamenti anche all'interno tra un paese e l'altro. Ancora, tra questi, la concentrazione di servizi che si sta sviluppando soprattutto lungo l'asse della tramvia ed ancora anche degli effetti dal punto di vista demografico benefici. E' stato analizzato, ad esempio, che negli ultimi anni, conosciamo ovunque, negli ultimi sei anni c'è stato un decremento demografico che ha colpito tutta la provincia di Bergamo e in particolare la media valle e le valli, l'alta valle seriana in particolare, come anche la valle brembana. Ecco, c'è dimostrato che invece dove è arrivato il tram, ad Albino per esempio, questo decremento demografico non c'è stato proprio perché è stato capace di rendersi attrattivo ed in particolare attraverso anche sulle coppie, diciamo, più giovani. Quindi questo fenomeno, che è un fenomeno che se vogliamo ragionarci lo potremmo cogliere, però gli stessi numeri dimostrano che questi fenomeni si sono verificati. Diversi cantieri aperti in queste settimane a Vertova, si lavora anche contro i dissesti e il rischio idrogeologico. E questa estate è stata un'estate abbastanza, a meno l'inizio, abbastanza impegnativa per l'amministrazione, infatti abbiamo portato e stiamo portando avanti diversi lavori. Allora a fine giugno abbiamo ultimato la pavimentazione di Piazza San Lorenzo, è stata aperta, diciamo, la libera circolazione e il 10 agosto, lungo il concerto, si potrà finalmente, si potrà vedere per tutti un po' anche come è stata sistemata. Abbiamo ottenuto un buon risultato, poi sono quasi ultimati i lavori in via 4 novembre, qui un po' lavori causati dal crollo di parte del muro di sostegno della carreggiata avvenuto il 20 maggio, ormai è stato messo in sicurezza con un muro di cemento armato, sono stati posizionati degli appositi tiranti per compattare il tutto e quindi si aspetta solo la stabilizzazione, però anche questo per fine mese sarà terminato. Stiamo facendo, cioè in via canale, un largamento di qualche decina di metri su una proprietà privata, è un piano, una convenzione che avevamo per un ampliamento industriale dove diciamo c'è stato un buonario accordo tra i privati e viene recuperato questo pezzo di strada che era una strettoia che rovinava un po' e rendeva difficoltoso il traffico, oltretutto lì una zona abbastanza ricca di insediamenti industriali, quindi eliminare anche questa strozzatura sicuramente porta benefici anche a queste aziende. In questi giorni stanno facendo i lavori anche di demolizione di quel masso in via 5 Martiri che aveva causato qualche problema qualche anno fa e qualche comunque patema d'animo ad alcune famiglie che abitavano nelle vicinanze, è un lavoro che viene effettuato dalla comunità montana nell'ottica dei fondi di ristrutturazione e sistemazione del dissesto del territorio, è chiaro che dico, è un lavoro che comunque era stato segnalato dall'amministrazione, portato avanti anche con insistenza dall'amministrazione comunale, finalmente in questi giorni in via di sistemazione. Ultimo, verso ovviamente approfittando dell'estate, stiamo proprio in questi giorni, siamo nella fase preliminare del piano di esecuzione dei lavori, a settembre è previsto come un altro lotto abbastanza corposo, circa 100 mila euro di asfaltature per le vie del paese, quindi diciamo che siamo ormai nella quasi totale copertura delle vie del paese come sistemazione, per cui sono comunque giorni impegnativi, ma d'altronde se si vuole fare qualcosa non deve mancare l'impegno dell'amministrazione, di cui ringrazio ecco i miei consiglieri, i miei assessori, perché è chiaro l'impegno di tutti porta dei risultati e i risultati poi sono visti e ne gode la popolazione tutta. Ad Ardeseo continua il dibattito sul tracciato della futura pista ciclabile. Nei giorni scorsi il capogruppo di minoranza Simone Bergamini citava due progetti realizzati dalla precedente amministrazione comunale. Il sindaco Ivan Caccia ha quindi replicato criticando uno di questi progetti, quello che prevedeva di passare dalla cunella con la realizzazione di accorgimenti che la rendessero in grado di supportare il transito di biciclette e automezzi. Nel corso dell'intervista Caccia ha parlato del nuovo progetto che prevede di salire lungo la Valzella fino alla località Boschina e poi grazie ad una passerella tornare verso la cunella. Ma con un video diffuso su internet l'ex sindaco Alberto Bigoni rivendica la paternità dell'idea. Vediamo il video. Però che ideone che ha avuto il nostro sindaco? Complimenti? Beh trattasi esattamente della seconda proposta accennata qualche giorno fa dal nostro capogruppo Simone Bergamini e pensata dal precedente gruppo amministrativo di Ardesio Unita. Tra l'altro inserita nero su bianco in un documento importantissimo per l'amministrazione, cioè nel piano di governo del territorio. E a verifica di quanto sto dicendo consiglio la consultazione dei documenti sul sito istituzionale del Comune di Ardesio oppure sulle pagine virtuali di Ardesio Unita al sito www.ardesionita.it. Ora, la domanda nasce spontanea. Come mai oggi il sindaco si dimentica di evidenziare la corretta paternità di questa idea? Ma forse perché nel 2013, quando è stato approvato il PGT, lui e tutto il gruppo consigliare della Lega Nord risultava assente dai banchi consigliari? Ma può essere. Comunque, visto che ci siamo, andiamo avanti con la disamina del progetto. Si diceva che questa idea parte dal presupposto di salire lungo il lato destro del serio, quindi dietro l'abitato della Valzella, arrivare più o meno in località boschina e poi tramite l'uso di una passerella arrivare al Parco Cunella. Bene, questi elementi sono sufficienti per capire che il tema, quindi così posto, va a risolvere due problematiche distinte. La prima, l'uso del sedime che davvero diventa completamente separato tra cicli e automezzi, perché di fatto così diventa. E il secondo tema importantissimo è che questa linea così tracciata permette di risolvere l'annoso problema che si trascina da decenni, cioè quello di poter garantire un accesso pedonale in sicurezza all'abitato di Valzella e Ludrigno al capoluogo di Ardesio. Una richiesta che davvero si trascina da tantissimo tempo. Detto questo, quindi proseguiamo con l'analisi. Una volta arrivato al Parco Cunella, si è sulla Cunella e quindi l'ultimo tratto, quello più a ridosso con l'abitato del capoluogo, ha evidentemente l'uso promiscuo tra automezzi e cicli. La nostra idea quale fu? Fu quella di chiedere all'interno dell'abito di trasformazione tutta auto la sistemazione del muro di sostegno di quel sentiero che costeggia l'ultimo tratto di Cunella. A dir la verità, prosegue oltre la Cunella e arriva fino al 1000 luci. Bene, questo ambito di trasformazione con questa richiesta è stata modificata dall'attuale amministrazione qualche settimana fa, come tutti ricorderete perfettamente, e quindi è stato stralciato il muro di sostegno per inserire invece la realizzazione di una rotonda. Quindi qual è l'amministrazione che ha a cuore il fatto di evitare l'uso promiscuo della ipotetica pista ciclopedonale tra cicli e automezzi? Ognuno tragga le proprie risposte. Questa sera sul nostro canale principale, l'88 del Digitale Terrestre, un nuovo appuntamento con Decoder, l'approfondimento condotto da Andrea Filisetti. Si parlerà dell'Università degli Studi di Bergamo con il rettore Remo Morzenti Pellegrini e i prorettori Matteo Kalkschmid e Marco Lazzari. La trasmissione andrà in onda alle 20.30, le repliche domani alle 14 e venerdì alle 23.15. Per noi adesso è il momento di una pausa, al rientro parleremo del Traveling Music Festival che torna a San Lorenzo di Rovetta e poi dell'Atalanta che ha lasciato Rovetta perché è terminata questa fase del ritiro precampionato. A tra poco. Rieccoci con il telegiornale, prende il via domani sera a San Lorenzo di Rovetta la 17esima edizione del Traveling Music Festival che continuerà fino a sabato. Novità di quest'anno, la nuova struttura che ospita casse e cucine realizzata grazie al contributo del comune di Rovetta. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Sportiva San Lorenzo che ha anche un nuovo presidente. Ecco innanzitutto ha colto le eredità di Siperioni. Esatto, dopo ben otto anni alla presidenza ha lasciato questa carica a Giuseppe Siperioni che ringraziamo per il grandissimo lavoro che ha fatto e cercheremo di portare avanti la sua eredità nel migliore dei modi. E ora c'è in vista questo importante appuntamento, il Traveling. Esatto, c'è il Traveling Music Festival giunto ormai alla 17esima edizione. La formula è più o meno la stessa da qualche anno, ovvero tre serate, giovedì, venerdì e sabato, che quest'anno cadono il 27, 28 e 29 luglio, organizzate più o meno allo stesso modo, nel senso alle 19 con l'apertura delle cucine dove ci sarà pizza con forno legna, carne alla griglia, paninazzo del lupo, piadine eccetera. Alle ore 21 con l'inizio del primo concerto del gruppo Spalla e mentre dalle 22, 22 e un quarto circa con il gruppo principale. E poi quest'anno c'è la novità che è proprio lì alle sue spalle. Esatto, questa è una grandissima novità, questa nuova struttura che ci permette di organizzare al meglio i nostri eventi dove ci sarà all'interno il locale della cassa e dove verranno preparate le nostre carne alla griglia, i nostri panini, le nostre piadine. Questa struttura ci aiuta molto proprio a livello organizzativo ed è stata realizzata questa primavera grazie principalmente al contributo del Comune di Rovetta ma anche grazie a tante ditte del territorio che ci hanno voluto dare una mano chi a livello economico, altre chi invece proprio a livello di mano d'opera in fase di realizzazione della struttura. E ricordiamo allora l'ingrediente principale di questo Music Festival? La musica, anche quest'anno ci saranno tanti gruppi sia di livello nazionale che internazionale. Si partirà giovedì con i piccoli ma grandissimi Wide Wolves, un gruppo qua di San Lorenzo di ragazzini d'ovoli ma con il rock nel sangue, per poi passare a Timothy e l'ostetica Gamberini, un gruppo rock che propone musica propria o anche cover con grande brillantezza e grande carica. Poi venerdì ci saranno i Black Daila seguiti dai Sleek Steve and the Gangster, un gruppo affascinante che ci riporterà al rock degli anni 50. Si passa sabato con gli Elephant per poi passare a Demian Dominguez e la sua band direttamente dal sud degli Stati Uniti dove porterà il suo grande blues e la sua grande carica. Vi ricordiamo che tutti i concerti sono gratuiti e quindi perché no vi aspettiamo per bere qualcosa insieme, mangiare qualcosa insieme e ascoltare della buona musica. Chi c'è stato negli altri anni sa che comunque tanta gente viene sempre presente e quindi sarà bello divertirsi insieme. Si è concluso il ritiro dell'Atalanta a Rovetta, i Nerazzurri proseguiranno la preparazione in Svizzera dopo il trofeo Bortolotti di questa sera. Con il trofeo Bortolotti di questa sera allo Stadio Atleti Azzurri Italia di Bergamo si chiudono le due settimane di ritiro in Alta Valle Siriana per l'Atalanta. A Castello della Presolana prima della partenza abbiamo incontrato e conosciuto il nuovo attaccante neroazzurro Luca Vido. È andata anche meglio delle aspettative, mi sono sempre trovato subito trovato bene con i compagni anche se c'è come hai detto tu molto da lavorare, siamo solo agli inizi adesso non contano nulla i gol, però fa sempre piacere buttarla dentro, poi abituandomi adesso cercherò poi di farli quando conterà. Sì, c'entrò avanti, a me piace fare anche la seconda punta, il trequartista, mi piace avere molto la palla sui piedi, anche far segnare il compagno, non devo solo segnare io, faccio assiste come se avessi fatto gol per me. Ho fatto dei begli anni vicino a casa mia per poi spostarmi a Milano, a Milano ho vissuto 5 anni e devo ringraziare davvero tantissimi mister, tutte le società, mi sono sempre trovato bene, ho cercato di dare sempre il meglio di me e basta, adesso sono qui e penso solo all'Atalanta. Sicuramente, vuol dire che comunque l'Atalanta guarda i giovani, è un calcio che comunque è molto adatto a noi, cerca di far sfruttare tutte le occasioni possibili, cerca di che se ha un dubbio magari comunque il giovane gioca, adesso Pessina è un ragazzo che conosco bene, un bravissimo ragazzo, un bravo centrocampista, anche Riccardo, anche lui un bravo ragazzo, un esterno molto forte che sa fare gol e sicuramente anche loro stanno facendo bene in ritiro. Ci saranno tantissime partite da affrontare, io sto cercando in tutti i modi, anche se comunque in ritiro le gambe proprio non rispondono alla testa, quindi sto cercando di dimostrare di lavorare per poi guadagnarmi un posto che siano gli ultimi 5 minuti, 20, che sia un tempo titolare in qualsiasi competizione, comunque cercherò di fare più minuti possibile e più gol possibile. Ora un nuovo appuntamento con la rubrica Racconti di ieri a cura di Mino Scandella. Con questa rubrica spesso abbiamo scoperto particolari delle volte, ma per ora non ci siamo mai occupati della volta della Basilica di Clusone, che ha effettivamente alcune opere che meritano attenzione. È vero, la volta della Basilica di Clusone è sicuramente dalle più belle, sia come decorazione, sia come aggiunta delle figure alle decorazioni e alle architetture. Il vecchio soffitto della chiesa alla fine del Seicento era decorato a stucchi, ma gli stucchi hanno cominciato poi a cadere e quindi a metà Settecento, esattamente nel 1669, si è deciso di cambiare completamente la volta, togliere gli stucchi e quindi la volta deve essere nuova, riaffrescata. La decorazione viene affidata a due specialisti di questa decorazione delle volte. Dalla parte si ingaggia Bernardo Brignoli, che è tra i quadraturisti, cioè quelli che dipingono le finte architetture delle volte, sicuramente il miglior colaturista bergamasco e anche uno dei maggiori lombardi. Bernardo Brignoli, secondo il gusto dell'epoca, barocchetto, dipinge tra le finte architetture, dipinge Irlande, Ghilande Ariccio, forme di carte elitiche con appendici semicircolari, ma senza troppo esagerare. È un barocchetto molto sintetico e non esagerato. E naturalmente, poi la decorazione dei pilastri e delle cornici viene affidata dal suo collaboratore Ferrari di Adrara, ma insieme alla decorazione interviene il secondo specialista. Il Brignoli non ingaggia più il suo solito collaboratore, ma la decorazione delle figure viene affidata a un pittore importante, Enrico Albricci di Vilminore, che è con l'epoca nel 69, aveva già 55 anni, ma Albricci, noto soprattutto per le sue tele, i suoi quadri, aveva avuto un'ottima esperienza a Brescia proprio nel dipingere le figure, figurinista. Qual è lo scopo del figurinista? È quello di dipingere tra le architetture le figure, usando le sitone, il bianco, le lavori, eccetera, imitando le statue, quindi usando bene la luce, le ombre, eccetera. E qui Albricci ha fatto senz'altro un lavoro eccellente. Cosa ha dipinto Albricci? Ha dipinto a coppie, sulla base della volta, ha dipinto le virtù. E sono queste, andando a coppie e sapienza, con la croce, lo spirito santo in alto, il calice e la carità, in solito il latte ai bambini e con il grembo altri bambini, la fortezza con la colonna e il leone, la temperanza con il morso del cavallo e la banderuola, la giustizia con naturalmente con la spada e la bilancia, la prudenza con la remola sul braccio e lo specchio, la speranza con la canonica ancora e la fede con croce, calice e eucaristia. Una breve pausa e poi la parte finale. Riprendiamo con il nostro Tg e prima di dedicarci ai programmi di Antenna 2, apriamo la nostra pagina degli auguri, questa sera dedicata a Martino Giudici di Clusone che compie 75 anni. Tantissimi auguri dalla moglie Fulvia, dal figlio Emilio, dai colleghi sacristani e dall'amico fotografo Giuliano. E adesso i programmi di Antenna 2, questa sera alle 20 dopo il Tg, un nuovo appuntamento con il Crazy Cre, questa sera dedicato al Cre di Costa Volpino, alle 20 e 25 Promoserio Eventi, alle 20 e 30 Decoder, alle 21 e 30 lo Sport, un speciale dedicato alla Clusone Corrin Centro che si è corsa nei giorni scorsi, alle 22 e 30 la seconda edizione del Tg, alle 23 e 15 Antenna 2 Sport, a mezzanotte e mezza la terza edizione del Telegiornale che come sempre va in onda anche alle 21 e 30 sul canale 218 e sullo stesso canale alle 22 e 10, l'anteprima Target, questa sera dedicata alla festa per il settantesimo degli Alpini a Doneta. Adesso l'Almanacco, domani è giovedì 27 luglio, il sole sorge alle 5 e 52 e tramonta alle 21 e 01. La luna è crescente, sorge alle 10 e 33 e tramonta alle 23 e 21. La Chiesa ricorda San Celestino I Papa. Le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi, Lombarde, cielo parzialmente nuvoloso per transito di nubi medio-alte e spesse velature. Dalla serata, cielo sereno o poco nuvoloso su Orobbie e Prealpi. Temperature in sensibile aumento. E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.